Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, io sono il vostro gaming tech e oggi volevo proporre un nuovissimo gadget per iphone 5s, 5 o 5c o versione precedenti. Partiamo subito! Come già detto volevo proporvi uno speaker, voi aspetterete un normale speaker ma questo è letteralmente diverso, questo è uno speaker chiamato Bose, potete leggere da qui, questo speaker utilizza la connessione NFC come potete vedere da qui, non wireless, non syncing, no problem, necessita di 3 batterie da 1,5 volt che non sono incluse, vabbè, qui ci spiega come possiamo attivarlo, qui è ottimizzato ci dice per i prodotti Apple e lavora con tutti gli smartphone MP3 che hanno uno speaker esterno. Dall'altro da qui invece abbiamo la garanzia, come potete vedere, potete vedere la garanzia, qui abbiamo un'immagine, qui tutte le altre cose, come posso dire, non so. Poi abbiamo la scritta mid in Cina, vabbè, marchio c'è, mentre qui invece ci spiega che abbiamo 15 ore di batteria che possono, può durare fino a 15 ore. E qui abbiamo l'interazione e tutto l'altro, tutto il resto. Ora andiamo ad aprire la scatola, l'ho preso di colorazione arancione perché era l'unico rimasto, a parte il rosa. Come potete vedere, questo è un adesivo dell'Apple che mi hanno dato in omaggio, mi hanno regalato, anzi, alcuni amici, quindi io appena, siccome me l'hanno regalato, questo me l'hanno regalato, mi hanno appiccicato il design dell'Apple. Come potete vedere, scatola sopraffina, questo è lo speaker, lo potete vedere, ha due speaker, uno in un lato e uno in un altro. Qui ha il dock da 5 volt se non vogliamo usare le batterie. Qui abbiamo il jack per i dispositivi che non hanno questa connessione. Mentre qui abbiamo un led blu, come potete vedere, e il pulsante di accensione o spegnimento. Voi vi chiederete, ma come fa a connettersi all'iPhone? Beh, questo è semplice, non usa la connessione wireless oppure la connessione bluetooth, bensì usa la nuovissima tecnologia NFC. Voi vi chiederete, ma che cos'è l'NFC? Beh, l'NFC è una nuovissima connessione, ovvero una via di mezzo tra bluetooth e wireless, che non ci fa stancare molto la batteria del telefono, ma la fa durare. Se io faccio partire una musica, come potete sentire, questo è senza lo speaker. Se invece lo accendo, lo speaker, come potete vedere, fa questo led blu, appoggio l'iPhone sopra, potete sentire, è un amplificatore, non so se si sente la mia voce, non so se si sentiva la mia voce, ma come potete vedere, ora non parlo più, se così, senza speaker, come potete vedere qui. Questo è lo speaker, molto bello per il mio, ho pagato solo i 15 euro, questo è uno speaker molto molto bello, lo adoro, e lo porto ovunque vado. Beh, questo è lo speaker, io sono TheGamingTech, questo è l'iPhone 5C nuovo del mio scorso video, se non sapete quale video, cliccate in 5 secondi la mela e vi apparirà il video. Questo è tutto, qui da TheGamingTech, ciao a tutti ragazzi!